Messa la parola fine alla querelle che ha tenuto banco per tutta la settimana sul rientro in presenza in classe a scuola. Da oggi si ritorna a scuola in quasi tutta la Sicilia, nonostante la zona arancione. I sindaci si sono visti impugnare nella maggior parte le ordinanze con le quali avevano predisposto le chiusure in presenza. La normativa non applicata fino a questo momento prevede che in zona arancione non vi sia la chiusura delle scuole. Il decreto legge 111 del 2021 regola le attività scolastiche e prevede che la chiusura sia sola in zona rossa ed in determinate condizioni di pericolo. La norma parla di focolai. Al momento non è previsto dal Ministero lo screening negli istituti scolastici.